Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, sono stato un po' assente per motivi più che altro lavorativi, rieccomi all'opera. Allora, le ultime richieste che ho ricevuto sulla pagina delle lezioni sul mio sito, dove ognuno può richiedere qualcosa di specifico, vari argomenti tecnici, teorici, armonici e via dicendo, tra le ultime ho ricevuto una richiesta di Luca che mi chiede qualcosa che riguarda l'improvvisazione, non sarebbe male, Cioè mi chiede, mi dice, qualcosa che riguarda l'improvvisazione non sarebbe male. Allora, ho preso questa perché credo che per trasmettere qualcosa riguardo all'improvvisazione serva del tempo e serva calma, quindi varie lezioni ovviamente. Allora, io ho già un po' trattato l'argomento, quindi chiedo gentilmente di dare un'occhiata ai link che metterò sotto delle varie lezioni, anzi della playlist dedicata proprio all'improvvisazione, così che non sto a ripetere argomenti già trattati, come ad esempio improvvisare su un accordo solo, utilizzare letteri ed eccetera. Volevo fare un passo avanti, che comunque andare in modo graduale, perché si fa presto confonderci le idee, e parlarvi di come affronto, io tanto faccio sempre lezioni in base alla mia esperienza, diciamo, di musicista, tra molte virgolette, come mi sono buttato io nell'improvvisazione, anche se sono più bassista, anche se non sembra magari dalle mie passioni, ho una passione più grande per Giacomo, però in realtà non mi piace tantissimo improvvisare. O meglio, lo preferisco in certi contesti, come ad esempio quando suono jazz o dintorni, allora il mio girettino di assolo faccio volentieri, mentre un brano pop, comunque musica leggera, preferisco magari più che un'improvvisazione, una frase ogni tanto, qualcosa che vada, cerco di abbellire il brano in quel determinato momento. Al di là di questi discorsi, torno a... arrivato in, e volevo parlarvi di un problema che sto incontrando, cioè nel senso che i miei allievi, la stragrande maggioranza degli allievi che ho, hanno il problema riguardo all'improvvisazione sui cambi di accordo. Quindi tralasciamo i vari genderi musicali, come sapete, io, già come sapete, qualcuno di voi magari lo sa, ho un approccio all'improvvisazione diverso, a seconda del contesto musicale, a seconda di quello che voglio esprimere, voglio cercare di esprimere, probabilmente, sicuramente in un contesto jazz, tendo molto più al fraseggio con note che escono e rientrano il famoso in-out, note fuori, note dentro, eccetera. In un contesto pop cerco sempre di più la linea melodica, quindi 99 su 100, una solo in un contesto pop lo faccio con i fretless, perché mi dà appunto quello spunto in più di cantabilità, quindi poche note, ma spero buone, nel senso, ce la metto tutta per creare qualcosa di cantabile, magari di bello da ascoltare. Allora, volevo propordi, dicevo, il problema è il cambio di accordi, quindi un classico è pensare appunto al momento in cui cambia l'accordo, quindi vi faccio un esempio semplice, questi tre accordi, Do minore, settima, Fa settima, e Si bemolle, o Si bemolle maggiore zen, due battute. Una cosa che ho notato, ad esempio se chiedo a un mio allievo, fammi un semplicissimo fraseggio su questi tre accordi. 99,9 su 100 viene fatto qualcosa del genere, per farvi capire il senso di quello che voglio dire. Do minore, Fa settima, Si bemolle maggiore zen, Do minore, A settima, Si bemolle, Si bemolle. Ovviamente è giusto un esempio per farvi capire che noi bassisti tendiamo, purtroppo, molti bassisti a avere la tonica come nostro punto di salvezza, diciamo. Ovviamente il ruolo principale del basso è ritmico e armonico, e per quanto riguarda l'armonia è quello di far sentire le note fondamentali, quindi la tonica in particolare. Questo però, quando poi parliamo di improvvisazione, ci blocca un attimo e tendiamo sempre a partire o a arrivare alla tonica del primo accordo, o a arrivare comunque alla tonica del secondo accordo, e oltretutto, questo pensare troppo a cosa succede sotto, ci nega la libertà di creare delle frasi che abbiano un senso, Quindi, come quando facciamo un discorso, ci faccio sempre questo paragone, quando spieghiamo qualcosa, comunque vogliamo, siamo in una discussione, a regola, io non ci riesco, ma a regola il nostro discorso dovrebbe avere un senso, Quindi, un inizio, una fine, nel mezzo ci saranno delle pause, dei cambi di volume, perché magari a un certo punto dico una cosa un po' più forte, perché magari sono più arrabbiato, c'è milioni di modi di esprimersi con la voce, c'è chi parla, tipo, radio lina, non si chieda mai, quindi parla tutto insieme, tutto, Chi invece è più tranquillo, rilassato, che se la prende comoda, ci mette le pause, così nella musica, quindi, dobbiamo cercare, invece di stare, è logico che quando si studia, sto dicendo un controsenso, però, dobbiamo cercare di studiare in un modo, ma poi quando suoniamo insieme a altri musicisti, o ancora di più su un palco, di scordarsi tutto quello che sono le note, degli accordi, le scale, e goderci il momento, nel senso, Un altro paragone può essere che io imparo da piccolo a leggere e scrivere, però poi l'esperienza me la faccio nella vita di tutti i giorni quando parlo con gli altri, Quindi, anche nella musica, i grandi musicisti hanno studiato e studiato e studiato, proprio quando salgono o salivano sul palco, suonavano, stavano tanto a pensare, E arrivarci non è semplice, però, andando un gradino alla volta, si può migliorare il nostro modo di improvvisare Allora, quindi, uno step, oltre a tutto quello che ho già detto, appunto, nelle lezioni di tempo fa, di iniziare su un accordo solo, iniziare a sentire il colore che dà un accordo maggiore, un accordo minore, la sensazione che ci dà un diminuito, Tutto quello che possiamo suonare sui vari accordi, le sostituzioni sugli accordi di dominanti, eccetera, eccetera, tutte cose già dette. Ora, voglio parlarvi di qualche piccolo trucchetto per iniziare a scostarsi un attimo dalla tonica, anche in fase di fraseggio, o comunque di assolo, quindi. Riprendiamo questi tre accordi che dicevo prima, qui, Do minore, settima, le note sono il Do, una tonica, Mi bemolle, la terza minore, Sol, che è la quinta, e Si bemolle, che è la settima minore. Ovviamente ce l'ho su tutta la tastiera, tutte le, come ho sempre detto. Quindi una tonica può diventare ottava, quindicesima, una terza, una decima, posso scambiare le altezze, sempre queste quattro note sono, però, su altezze diverse, in ordine diverse, eccetera. Poi abbiamo il Fa settima, quindi Fa, la tonica, La terza maggiore, Do, la quinta, e la settima minore, Mi bemolle. Terzo discorso. E poi il Si bemolle, major seven, per due battute, quindi Si bemolle, tonica, Re, terza maggiore, Fa, quinta, e La naturale, settima maggiore. Queste sono, questa successione armonica, in 2-5-1, anche se in un contesto più da ballad, l'ho messo. Tanto è, forse la cadenza, quindi la successione armonica che troverete di più in qualsiasi, una, una delle, delle più usate, insomma, questa successione armonica. Allora, noi, ovviamente, possiamo, non è che è vietato iniziare una frase dalla tonica, quindi, Do minore, Fa, Si bemolle. Ho, però, altre opzioni, quindi, innanzitutto, posso partire da tutte le altre note dell'accordo, o anche, perché no, della scala, scelgo una scala, parto, che ne so, dalla nona. Comunque, un passo alla volta, ad esempio, le terze, abbiamo Mi bemolle sul primo accordo, di Do è Do minore, la terza è Mi bemolle. Quindi, già un'idea può essere partire, iniziare la mia frase, con una nota diversa dalla tonica. Terza di Fa, settima, La maggiore, La maggiore, La naturale. Terza di Si bemolle. Oppure la La Quinta, per esempio, parto, quindi, dal solo. quinta di fa, do naturale, quinta di si bemol, fa andiamo a provare con la base prima delle idee partendo dalla tonica e poi sentiamo gradualmente la differenza, se ci riesco, farvi sentire la differenza partendo da altri gradi dei vari accordi. Un altro trucchetto che vi dico oggi, senza andare troppo oltre perché il mio obiettivo ora è fare poche lezioni ma per farvela prendere con calma, cioè ogni lezione se ovviamente vi interessa l'argomento eccetera che ci lavoriate un po'. Un altro trucchetto può essere in un contesto del genere, dicevo partire dalla terza, quindi mi bemol nel caso di do minore, fare una frase, inventare una frase, poi spostarsi di una terza minore sopra e fare la stessa frase, quindi ho fatto questo, funziona perché la nota che vado a suonare, quindi la terza minore della terza minore diciamo, che in questo caso diventa un sol bemolle, è esattamente la nona, la seconda minore diciamo del secondo accordo, che è il faceto. Funziona per vari motivi, che avevo già detto sugli accordi dominanti, ci sta benissimo questa tensione che poi risolve. Quindi inventarsi una frase e trasportarla una terza minore sopra. Sul secondo accordo parto dalla nona bemolle. Questa è un'altra idea, e su 2-5-1 si fa spessissimo come trasportare una frase sull'accordo successivo si fa non solo su 2-5-1 ma anche in altre occasioni. Metto la base e si prova un po' di cosette. Si bemolle. Parto dalla tonica. Grazie a tutti. Dopo un po' è ripetitivo. Ora inizio a variare. Terza, quinta, eccetera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, ovviamente, come sempre, alcune frasi funzionano meglio, alcune meno. Però facendo pratica, poi l'obiettivo è quello, come dicevo prima, di arrivare sul palco, comunque a suonare insieme agli altri e pensare il meno possibile, o meglio, pensare a quello che vogliamo trasmettere, senza pensare troppo a schemi, accordi, box o quant'altro. Ultimo consiglio è quello di, se vi riesce, se ne avete voglia, canticchiarvi qualche frase in testa, prima o istantaneamente, mentre suonate. Insomma, insomma. Tu, 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 ba, du, 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 du mentre si suonano anche sottovoce o in testa insomma per oggi mi fermo ragazzi se ci sono domande scrivete se ci sono richieste scrivete se ci sono critiche scrivete scrivete poi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti